Arrivi alla SPAL, sei in divisa, che società è? Come ti sei trovato? Bene, benissimo, sono contento. Quest'estate avevo la possibilità di scegliere e quando mi è arrivata la chiamata della SPAL, insomma, non ci ho pensato, anche perché è un club storico, è un club che negli ultimi anni ha sempre fatto la Serie A e la Serie B, poi si sa, capitano annate storte, però qua c'è la volontà di fare le cose fatte bene, quindi non è stato difficile scegliere, anche perché abbiamo 4500 abbonati, se non mi sbaglio, quindi è una società che è importante.